Come ho avuto occasione di dire oggi in aula, si tratta di una delle solite fake news di Giorgia Meloni. Il Partito Democratico, sin dall'inizio dell'invasione, non ha mai fatto mancare il supporto, con ogni forma di assistenza necessaria, al popolo ucraino nella difesa contro un'aggressione criminale come quella di Putin. Accanto a questo, ancora in questa sala del Parlamento europeo, ho ribadito come sia necessario uno sforzo diplomatico e politico più forte dell'Unione europea per isolare la Russia e per riuscire a creare le condizioni per restituire agli ucraini pace e libertà.